come voleva si dimostrare il caro sabio ha annunciato che farà un video rispondendo a me perché deve comunque fare il parassita su queste cose perché non ha nulla da offrire al mondo di youtube quindi ora si attacca in questi 15 minuti di fama che avrà si attacca alle stronzate chiaramente puoi continuare a marciare su questo dissing inutile fino a che potrai perché tanto poi alla fine di sostanza non hai niente quindi fai il video di quello che ti pare tanto sono sicuro che saranno tutte stronzate buoniste e populiste fai quello che vuoi prenditi queste ultime briciole di notorietà ed attenzioni attingendo rispondendo alle mie argomentazioni così scorrette facendo la vittima come solo sai fare divertiti che tanto fra un quarto d'ora non ti ricorderà più nessuno e chiudo con questa massima proprio quando la gente vedrà il fumo dissiparsi vedrà che sotto non c'è arrosto non c'è carne non c'è nulla c'è solo carbonella sapio ti piacerebbe eh ti piacerebbe bufu bufu piace che